Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi andremo a presentare a fare l'unboxing ossia scartiamo il prodotto del Midland BTX1 Pro un interfono da moto Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi presentiamo il Midland BTX1 Pro un interfono da moto ho preso il pacchetto doppio quindi con dentro due interfoni per poter parlare sia con il passeggero che con un'altra moto fino a 300 metri adesso andiamo a spiegarvi come funziona perché abbiamo acquistato un interfono da moto? punto privo perché nelle lunghe tratte ci stanchiamo un po' sinceramente di andare sempre un po' così e poi è bello ogni tanto parlare con il passeggero è bello ogni tanto ascoltare un po' di musica è bello sentire il navigatore che ci dà le indicazioni è utile più che bello in più questo interfono ha una luce d'emergenza adesso io non so come funzioni questa luce d'emergenza che è posta sul retro quando noi andremo a frenare probabilmente si accende questa lucina d'emergenza rossa va benissimo andremo a vedere e a spiegare come funziona se riusciamo in questo video altrimenti ci saranno altri video esplicativi ciao! vedete cosa c'è all'interno della confezione confezione molto robusta un cartone molto rigido dietro ci sono tutte le istruzioni come potete vedere l'intercom possiamo condividere la musica con un'altra persona che ha il nostro stesso interfono ha due possibilità di montaggio cioè il casco integrale il casco jet o comunque aperto si può fare un update del software del firmware dell'auricolare possiamo connetterlo con il cavo possiamo parlare con qualsiasi tipo di interfono con qualsiasi tipo di interfono noi se abbiamo un apparecchio possiamo collegarlo a qualsiasi tipo di interfono di qualsiasi marca ha la radio ha la regolazione del volume stereo calcellazione del rumore fino a 300 metri la luce d'emergenza è subacqueo ha batteria molto lunga con l'app BT Talk che andremo a spiegare poi è un whatsapp per gli interfoni il controllo automatico del volume si può attivare con la voce e ogni interfono può collegarsi con due apparecchi che siano un cellulare, un GPS, due cellulari quello che volete adesso andiamo a vedere cosa c'è qui dentro dove eravamo rimasti allora queste sono le due centraline una con le sue cuffie due con le sue cuffie adesso prendiamo un attimo questo lo spostiamo qua la centralina si stacca semplicemente tirando questa levetta questa verso di qui e sollevando all'inizio magari è un po' ecco si fa meno fatica a tenerlo da questa parte quando è montato comunque non c'è nessun tipo di problema questa è una slitta qui c'è adesivo 3M per poterlo appiccicare al casco poi vedremo come anche non appiccicarlo al casco ma fissandolo con una specie di morsa questo è tutto il sistema filare delle cuffie questa è la centralina una bellissima centralina qui c'è un piccolo led qui non c'è niente sul supporto abbiamo questo rosso che si illuminerà quando freneremo questa slitta filo che andrà al microfono e ora andiamo a vedere cosa c'è nel resto della confezione vediamo cosa c'è nel resto della confezione allora apriamo qua un cavo di ricarica cavo di ricarica USB con le due uscite per ricaricare le due centraline vediamo i supporti come vi dicevo prima i due supporti a tenaglia chiamiamoli così che si fissano così dopo vi farò vedere come con le sue vitine e tutto quanto abbiamo un caricatore da muro USB da da 300 mAh quindi non potentissimo ma va benissimo va benissimo per caricare le nostre centraline va bene anche quello di un cellulare che voi avete il microfono filare per chi ha il casco integrale ce ne saranno due il microfono a bacchetta lo so che non si vede bene da qui adesso lo tiriamo fuori a bacchetta per i caschi jet aperti qua abbiamo l'altro microfono un set di velcro da inserire all'interno del casco per poter fissare tutti gli elementi un altro set un altro microfono a stecca fine basta ok tutto vuoto una bella confezione c'è chi poi la utilizza in un altro modo stacca qui e se la usa per portarci in giro le cose è comunque utile questo prodotto è comunque bello